Ok, allora vediamo adesso l'ultimo video in cui facciamo vedere tutto il progetto che avevo fatto ieri e dove si vede il batterio che sta tranquillamente dormendo e c'è ancora un pannello dove si dice premi up and down se premo up fa l'hider e se premo il down fa il crunch questo serve fondamentalmente a cosa abbiamo voluto fare una cosa molto semplice, c'è un filmato in cui potevamo essere noi con la tastiera a pilotare quando il batterio faceva certe cose allora se vi ricordate da prima nel batterio l'avevamo importato come glTF e abbiamo visto che nell'animation player c'erano sì le nostre due animazioni ma che apparentemente, in cui l'animazione di standard è fermo ma che le due animazioni non andavano in loop quindi abbiamo detto ci facciamo aiutare dagli script per metterlo in uno stato di loop quindi ecco che lo script che io adesso ho agganciato al batterio in particolare all'animation player del batterio visto che era l'animation player che mi dava dei problemi gli ho fatto uno script e nello script ho messo ciò che mi serviva quindi sostanzialmente volevo fargli gestire l'etichetta che compariva quella che avete visto quando lanciavamo la scena abbiamo questa etichetta adesso qui non lo fa vedere perché siamo sbagliati dobbiamo essere qua main se noi facciamo ripartire questa scena qua vedete che qua in alto c'è press arrow up e down questa qui è l'etichetta che abbiamo messo qua dentro label special panel label quindi volevamo scrivere delle cose là dentro quindi la prima cosa che ho fatto è stata quella di ottenermi un riferimento alla label e la label la ottenevo andando a prendere il get tree che sarebbe tutto l'albero della scena get root quindi sono andato sul root root in cima e poi da questo ho preso il nodo spatial che era questo e sotto il nodo spatial ho preso il nodo panel che è questo e sotto il nodo panel ho preso ancora il nodo label che è questo quindi ho ottenuto un riferimento alla label la label sapete che c'è il campo text quindi posso metterci quello che voglio quindi se andiamo su panel vedete che c'è il pannello dove qui c'è scritto aaa perché è quello che c'ho scritto quindi dentro la label quindi dentro la label vedete che c'è questa cosa ho fatto una cosa molto semplice ho scritto qualcosa giusto per rendermi conto della grandezza di caratteri io ho semplicemente aumentato il rect questo, la size del rettangolo e poi anche la scale se non vado errato non di questo ma del pannello gli ho messo in rect uno scale 2 in modo tale da farlo un pochino più largo se facevo 3 e 3 vedete che è ancora più grande quella cosa quindi questo serviva solo per avere un riferimento visuale allo stato della nostra scena poi il batterio crunch abbiamo già visto gli ho messo la camera che era figlia di uno special con un animation player che abbiamo visto che permetteva di dunque andiamo sul main 3D vedete che abbiamo togliamo l'anteprima e qui c'è questa animazione che abbiamo visto che abbiamo progettato anche prima per cui la camera girava attorno al suo nodo spaziale e questo l'ho fatto senza fare una riga di script questo perché qui funzionava in teoria avrei potuto farlo anche sul batterio ma visto che c'è un bacchetto per cui non funzionava quindi tornando al nostro script il nostro script che era questo poi gli ho messo ancora un audio stream player per farlo suonare ecco lo script è questo ma torniamo qua sulla scena così vediamo la struttura ecco quindi vediamo la label abbiamo detto che è questa qui la label che è special panel label special panel label poi quando è pronto cioè prima di partire tutto gli ho detto di mettere alla self perché siamo l'animation player questo qui che ci aveva questo animation player evidentemente ci aveva il suo vediamo un po' qua dunque carichiamo carichiamo l'animazione che ci interessa dunque andiamo non ce la farò più quindi batterio crunch animation player ok ci aveva queste due cose perfetto invece l'animation player che avevo questo è sul batterio scusate quindi torniamo qua questo animation player ah si me la fa vedere giusto è la camera rotante quindi ho sbagliato prima di dirlo scusate allora questo animation player va tutto bene invece l'animation player questo che era dentro il nostro batterio aveva il difetto che anche se gli avevo messo a parte che adesso manca il loop animazione e qua il loop magari va a sapere se oggi ha deciso di funzionare cioè il concetto è che io gli ho messo queste due istruzioni questa e questa proprio perché non si manteneva non si manteneva il loop però può darsi che di oggi decida di funzionare vediamo facciamo il main facciamo il run della scena ah no vedete che si è bloccato quindi ci andava ok quindi questa istruzione se non la metto fa bloccare l'animazione poi nella label ho detto una stringa da far un'informazione da far vedere e poi lavoravo sui suoni e quindi mi sono caricato i due suoni che ho trovato da una libreria online una libreria online che me li trasformava in cioè me li faceva scaricare in WAV e io li ho trasformati in OGE su questo io ho fatto già un video dove vedevo come si faceva a trasformare queste cose ma in realtà ci sono anche delle qui vediamo un po' OGE convert WAV to OGE ok abbiamo un online OGE converter questo qui ok credo di aver usato questo cioè in pratica è possibile qua prendere un qualche cosa fatto in ad esempio punto mp3 per esempio questo qui get your ticket che ok questo qui spegniamo questo qui vedete che sono 8 megabyte questi 8 megabyte se lo prendo lo metto qua quindi lui lo carica e gli chiedo di fare start conversion e lui fa la conversione in OGE in origine era un mp3 e ho ottenuto una cosa molto compressa che è questo OGE quindi se questo OGE a questo punto lo clicco vedete che abbiamo il nostro file punto OGE poi il file punto OGE l'ho messo sotto al solito qua sotto tutti i failetti che mi interessavano è diventato un certo nome quello che aveva sul coso di partenza e niente e poi lo carico all'inizio dello script quindi questo qui è l'inizio dello script si carica il suono di sonno che sono l'ho preso da un anche questo da un c'era una cosa online di ho cercato credo qualcosa tipo boy boy blind sound ecco cercavo qualcosa di questo tipo ok kid sounds credo di aver fatto questo ecco questo qua vedete che qui c'erano dei suoni quindi mi sono andato a prendere il suono che mi interessava questo qui ad esempio è un suonino sono andato sul suonino e poi ho fatto la la lo scaricamento qui c'è il credo che qui lo attenuavo pure in mp3 e quindi in questo modo diamo anche vediamo i due suoni che ho preso che erano verso il fondo credo che ci fosse snow silly snoring questo qui pubblico a dominio quindi non devo neanche specificare che l'ho preso da qua e poi avevo preso pain che è che dove sia questo vediamo un po' se sia questo si direi di si e che c'è questo sampling plus uno zero che non so bene cosa sia il sampling plus uno zero come licenza probabilmente è l'origine da dove viene royalty dice sound effects eccetera devo studiare bene qual è il significato comunque il sito di partenza è questo quindi l'elementare licenza di uso di quei due suoni se volete trovarli li trovate lì quindi tornando al mio script i suoni vengono caricate all'inizio in modo tale che poi possono essere utilizzati facilmente vengono messi in loop anche loro quindi sia il suono che le animazioni sono messe in loop e fine del discorso invece quando voglio far reagire un tasto premuto in cui gli ho messo la freccina in giù che fa scrivere crunch in alto a sinistra e poi mette lo stream player che è qua sotto si chiamava audio stream player che è figlio praticamente dello script quindi lo script abbiamo detto che è qua figlio di qui c'è lo script e quindi figlio e questo si chiama audio stream player quindi dollaro audio stream player punto stream che gli metto lo stream sarebbe il suono che deve far fare e gli ho messo il sound 2 il sound 2 era il pain ed era il crunch e poi gli ho detto di fare il play e poi comunque gli faccio al mio animation player di fare il play dell'animazione crunch che era quella che abbiamo visto quella che fa girare il batterio in quel modo se invece scrivevo frecce in su quello che succedeva è che dicevo idle mettevo il suono del 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 batterio che dorme che ho preso questo qua snoring silly snoring snore e gli facevo il play di quello e poi mettevo l'animazione fermo quindi come vedete in questo caso lo scripting è abbastanza semplice io l'ho messo sotto animation player in teoria potevo metterlo in qualunque altro punto la gerarchia a seconda di dove lo mettevo cambiavano i riferimenti a dove andare a dire la label le stime scorse abbiamo detto che potevamo dire la label anche dei messaggi però possiamo anche parlare con la label in termini di questo genere che forse addirittura per voi potrebbe essere anche più semplice quindi credo che con questo abbiamo finito tutta la parte relativa al al nostro batterino e quindi ci vediamo poi mercoledì qui Grazie a tutti